Hai detto bene, un lieve vantaggio che cercheremo di farlo valere. Abbiamo incontrato una squadra forte, fisica, esperta, abituata a giocare ottavi, quarti di coppe importantissime. Una bella vittoria. Abbiamo fatto una partita di aggressività, determinazione. Abbiamo usato la testa, quella che avevo chiesto, perché è una squadra che ti riparte molto molto bene. Ne abbiamo presa una al secondo tempo e siamo stati bravi a reagire nel migliore dei modi. Anche io mi arrabbiavo quando uscivo dal campo in queste partite. A me è bastato vederlo come è scattato in piedi al gol di Lukaku. Sono cose che succedono in campo per l'Adenalina, per queste serate. Non dimentichiamo Dzeko, in questi 18 mesi per l'Inter non ha fatto tanto, ma tantissimo. Quali sono i giocatori di qualità? che abbiamo fatto in campo, sapendo che non è finita qua, avremo un ritorno che sarà molto molto impegnativo.